Siamo a Borgo Cariglia, scuola dell'infanzia, progetto legalità io e il mio paese. Questa mattina i bambini hanno visitato l'ufficio postale. Qual è il senso di questa iniziativa? L'insegnante Marinella Carbone. Allora, grazie. Ovviamente questa iniziativa è legata alla conoscenza del territorio, quindi i bambini della scuola dell'infanzia di Borgo Cariglia, che poi ovviamente fanno parte di quello che è l'IC di Altavilla e Silentina. Grazie ovviamente anche alla nostra dirigente Maria Carmela Verrelli, che ci ha dato l'autorizzazione a poter fare queste uscite, dove fulcro principale è stata questa uscita imposta, dove i bambini devono capire che effettivamente i loro genitori sono al di fuori di quello che è ovviamente le mura scolastiche, quindi non è che sono a casa, ma hanno un lavoro vero e proprio. E oltretutto valorizzare proprio queste piccole realtà, voi sapete che Borgo Cariglia è una piccola frazione di Altavilla e Silentina, ed è giusto valorizzarla appunto perché comunque ci sono tante attività e i bambini hanno proprio presa conoscenza di questa cosa. Il signor Carrozza, tra l'altro, Biagio Carrozza... Spieghiamo che il direttore del ufficio passato. Devo dire che si è attivato, quindi un grazie ovviamente anche all'ente poste, quindi lui si è attivato in primis per darci questa possibilità, perché nell'infanzia è un po' più difficile avere questo tipo di autorizzazioni, sono bambini piccoli, quindi veramente una lode al signor Biagio Carrozza, ma la lode la devo fare anche alle insegnanti che hanno lavorato con noi. Diciamo i nomi. Anche la maestra Elsa Nigro che ha lavorato con me al progetto, e ovviamente tutte le insegnanti, Lucia Cardamone, Roberta Liccardi, Maria Liccardi, la signorina Giardullo, Paola che ci ha dato... Così non ha lavorato. Che anche lei è presente all'interno della nostra scuola come educatrice, e poi ovviamente anche la nostra collaboratrice scolastica, Virginia Mottola, che è sempre presente. Siamo un team vincente. Elsa Nigro ha fatto parte di questo progetto, quali sono le impressioni? Che cosa ne hanno riportato i bambini con impressione positiva? Le impressioni sono positive, in quanto come diceva la mia collega, i bambini hanno potuto toccare con mano, e soprattutto vedere quello che si fa nella posta. Nello specifico loro hanno realizzato una lettera, da mandare magari a un amico lontano, ai nonni, tantissimi ai papà che lavorano fuori nell'esercito, in Libia, e quindi, insomma, l'impressione è molto positiva. Di quando si scrivevano ancora le lettere e le cartoline che non si scrivono? Poi volevo aggiungere la cosa, insomma, molto bella, è proprio il ritorno al cartaceo. Cioè adesso che viviamo nell'epoca del digitale, magari i bambini che scrivono oppure fanno un disegno da mandare a livello cartaceo, mi sembra comunque un messaggio positivo da dare alle nuove generazioni, che purtroppo si sa, lavorano, scrivono solo col digitale. Grazie.